A voi, cari fratelli e sorelle, giunti da ogni parte del mondo in questa piazza, e a quanti da diversi paesi siete collegati attraverso i mezzi di comunicazione, rivolgo il mio augurio Buon Natale. In questo giorno, illuminato dalla speranza evangelica che proviene dall'umile grotta di Betlemme, invoco il dono natalizio della gioia e della pace per tutti, per i bambini e gli anziani, per i giovani e le famiglie, per i poveri e gli emarginati. Gesù, nato per noi, conforti quanti sono provati dalla malattia e della sofferenza, sostenga coloro che si dedicano al servizio dei fratelli più bisognosi. Buon Natale a tutti! Buon Natale, 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 buon Nat